A poche ore dall'arrivo di Papa Francesco qui a Bari la città è pronta. Come potete vedere alle mie spalle ci troviamo in Corso Vittorio Emanuele, sono state già predisposte delle transenne, tra pochissimo verranno posizionate anche le barriere Jersey che bloccheranno totalmente l'accesso sia ai veicoli e poi questa notte a partire dalla mezzanotte anche ai pedoni su tutto il corso che interesserà la manifestazione. In Piazza della Libertà il palco è stato completato, sono state posizionate anche delle sedie che accoglieranno i vescovi che potranno vedere appunto da Piazza Libertà la Santa Messa che verrà celebrata da Papa Francesco e poi su tutto il lungomare, insomma su tutto il percorso che interesserà l'evento sono stati posizionati dei maxischermi che permetteranno alle oltre 50.000 persone, alle oltre 50.000 fedeli che giungeranno nel capoluogo pugliese di poter assistere alla messa. fedeli che raggiungeranno il capoluogo pugliese attraverso un sistema di trasporti che per l'occasione è stato potenziato a partire dalle ferrovie dello Stato, ai treni messi a disposizione dalle FAL e agli autobus sia pubblici che privati che permetteranno a tutti i fedeli di raggiungere le strade interessate dall'evento. Vi ricordiamo, questo è stato ricordato anche in occasione della conferenza stampa in questura, di presentarvi con delle borse molto leggere proprio per accelerare poi i controlli e i varchi prima di poter accedere qui nella zona interessati insomma dalla manifestazione. In queste ore però si sta registrando un allarmismo, un allarmismo molto forte, nasce principalmente sulle pagine social del primo cittadino di Bari. Noi sappiamo che i sindaci delle città hanno il compito di prendersi cura anche della salute dei propri cittadini perché si teme che l'emergenza coronavirus e quindi questa patologia che sta interessando tutto il mondo possa arrivare anche qui. Gli ultimi casi registrati in Lombardia, questo appunto accentuato, questo senso di paura di poter vivere in una zona e comunque condividere degli eventi come questi insieme a tante persone quindi il contagio potrebbe essere molto più veloce. Però allarmismi a parte, ieri l'Arcivescovo di Genova ha ricordato che non bisogna aver paura. Venite qui a Bari per assistere a questa grande manifestazione, alla Santa Messa di Papa Francesco perché sarà una grande occasione di condivisione di quei valori di pace, migrazione e fratellanza fra tutti i fedeli. Mediterraneo Frontiera di Pace si concluderà così domenica in Piazza della Libertà con la celebrazione della Santa Messa di Papa Francesco.